lezione della guida del sentiero numero 52 5 giugno 1959 l'immagine di dio saluti vi porto benedizione nel nome di dio sia benedetta quest'ora miei cari amici nella bibbia viene detto che l'uomo dovrebbe crearsi un'immagine di dio la maggior parte della gente crede che questa affermazione stia a indicare il divieto di creare disegni o fare stato di dio ma questo non è affatto il senso completo se meditate un po meglio su questa affermazione potete capire che in questo comandamento vi sono implicati anche altri significati dovreste ormai intuire che qui ci si riferisce all'immagine interiore siete ancora così imbrigliati nelle vostre conclusioni sbagliate e nelle vostre impressioni irrazionali che non potete fare a meno di avere un'immagine riguarda dio come anche riguarda tutti gli altri gli argomenti per voi importanti già in tenera età i bambini vivono il loro primo conflitto con le autorità ho parlato a lungo di questo fatto essi imparano che dio è l'autorità più alta e perciò non sorprende che proiettino le loro esperienze soggettive che hanno dell'autorità sulle idee che si fanno di dio in questo modo si origina un'immagine e ovunque vi sia un rapporto del bambino e più tardi dell'adulto con l'autorità il suo atteggiamento verso dio sarà con tutta probabilità colorato e influenzato da queste immagini i bambini fanno esperienza di tutti i tipi di autorità quando gli si proibisce di fare quello che vogliono l'autorità è avvertita come ostile quando invece i genitori li accontentano l'autorità è sentita come benigni quando durante l'infanzia uno dei due tipi di autorità prevale sull'altro la reazione che ha verso di essa diventa l'attitudine inconscia verso dio in molti casi tuttavia i bambini fanno esperienza di entrambi i tipi di autorità e tale combinazione a questo punto formerà la loro immagine di dio nella misura in cui il bambino prova paura e frustrazione svilupperà inconsciamente verso dio le stesse emozioni dio è visto come punitivo e severo spesso addirittura come una forza sleale ingiusta con la quale misurarsi lo so amici miei che non pensate così in modo cosciente ma sul sentiero vi viene richiesto di trovare le reazioni emotive nascoste che non corrispondono a tutti i vostri pensieri razionali quanto più i concetti inconsci riferiscono da quelli coscienti tanto maggiore è la sorpresa nel momento in cui ci si rende conto della discrepanza al bambino viene proibito di fare praticamente tutto ciò che più gli piace qualunque cosa gli dia più pacere gli viene vietata generalmente per il bene stesso del bambino ma questo lui non può capirlo spesso i genitori tendono a proibire perché spinti da ignoranza e paura così nella mente del piccolo si imprime la convinzione che per avere le cose più belle al mondo si viene puliti da dio cioè dall'autorità più alta e più austera inoltre nel corso della vita è impossibile non fare esperienza dell'ingiustizia umana sia nell'infanzia che da adulti su queste ingiustizie se queste ingiustizie sono perpetuate da persone che rappresentano l'autorità e perciò inconsciamente associate a dio la vostra idea inconscia della severa ingiustizia divina viene rafforzata tali esperienze accrescono inoltre il timore di dio tutto ciò forma un'immagine che se correttamente analizzata fa di dio un mostro questo dio che vive nella vostra mente inconscia è in realtà peggio di un satana nel vostro lavoro di introspezione personale dovrete scoprire quanto di tutto ciò vale anche per voi personalmente anche la vostra anima è impegnata di questi concetti sbagliati anche se quando col crescere un essere umano si rende conto di tali impressioni egli spesso non comprende che quell'idea di dio è falsa e dio non è ciò che viene conosciuto dalla mente per questo motivo vi allontanate completamente da dio e non volete avere nulla a che fare con un tale mostro che si aggira nella vostra mente per inciso questa è spesso la vera ragione che spinge all'ateismo allontanarsi è altrettanto sbagliato di quanto l'estremo opposto cioè quello di temere un dio severo ingiusto bigotto presuntuoso e crudele la persona che mantiene l'inconscio una tale immagine distorta di dio teme a ragione che quella divinità si riduce a elemosinare i favori ed ecco un buon esempio dei due estremi opposti entrambi ugualmente distanti dalla verità esaminiamo ora il caso in cui l'esperienza del bambino verso l'autorità sia stata più benigna che non di paura e frustrazione supponiamo che dei genitori troppo indulgenti che adorano letteralmente il loro bambino accontentino ogni suo capriccio essi non installano il senso di responsabilità nel bambino il quale a sua volta riesce sempre ad ottenere tutto quello che vuole l'immagine di dio che ne risulta può sembrare a prima vista più vicina al vero concetto di dio misericordioso, buono, amorevole, indulgente questo induce la personalità a pensare inconsciamente che di fronte a dio tutto le sia permesso che si possa ingannare la vita ed evitare di assumersi le proprie responsabilità all'inizio questo bambino avrà molta meno paura poiché la vita non può essere ingannata né può essere ingannato il proprio piano vitale questo errato atteggiamento darà origine a degli infiniti conflitti in cui nascerà la paura e verrà generata una reazione a catena di erronei pensieri, emozioni e azioni questo risulterà una grande confusione interiore dal momento che la vita nella sua realtà non corrisponde a questa immagine inconcia e al concetto di dio indulgente nella stessa anima si possono ritrovare molte suddivisioni e combinazione di queste due principali categorie l'immagine non dipende solo dal particolare tipo di autorità che viene prevalentemente vissuta nell'infanzia ma anche dalle caratteristiche che l'entità ha portato in questa vita quanto più l'entità si è evoluta sotto questo aspetto nelle precedenti incarnazioni tanto meno la sua psiche sarà influenzata dall'ambiente anche altri fattori possono svolgere un ruolo importante per esempio quando predomina l'autorità lo stile rappresenta da un genitore autoritario l'atmosfera nella casa del bambino è intrisa di paura verso quel genitore mentre l'altro genitore può benissimo essere affettuoso e permissivo sebbene questa influenza sia esteriormente più debole può lasciare nell'anima un'impressione molto maggiore che si va a riflettere nella risultante immagine lo stesso vale per il caso opposto anche se la severità e l'ingiustizia e la paura possono essere manifestate nelle immagini come l'elemento marginale l'impressione è che l'anima dell'individuo non può essere molto più forte creando così un'immagine ancora più potente nella maggioranza dei casi si riscontrano entrambe le correnti per lavorare sull'immagine di tutto deve essere rintracciato ed esaminato come, in che modo, perché, qual era ed è tuttora l'atteggiamento verso il singolo genitore o verso una figura sostitutiva ma tenete presente amici miei che dovrete rintracciare entrambe le influenze anche se all'inizio una delle due vi sembrerà la più forte l'immagine del Dio benevolo e indulgente non viene semplicemente sovrapposta all'immagine del Dio mostro ma è anche una reazione ed una compensazione a questo falso concetto la personalità può essere combattuta tra questi due concetti cercando inconsciamente di scoprire quale sia quello giusto senza mai riuscirci perché ovviamente entrambi sono falsi nella vita di ogni bambino vengono vissuti entrambi i tipi di autorità non importa quanto una prevalga sull'altra si può avere un genitore indulgente ed uno severo oppure si possono avere due genitori indulgenti ma un insegnante severo che stilla in voi la paura e abbia sulla vostra crescita interiore un'influenza molto maggiore di quanto possiate immaginare può anche trattarsi di un altro parente o di un fratello o di una sorella ma non viene mai a contatto con un solo tipo di autorità è molto importante amici miei che scopriate qual è la vostra immagine di Dio questa immagine è fondamentale e determina tutte le altre attitudini è un modello di comportamento lungo la vostra vita dovreste esaminare questo atteggiamento che può trovarsi profondamente nascosto dentro di voi non lasciatevi ingannare dalle vostre convinzioni coscienti cercate piuttosto di esaminare e analizzare le reazioni emotive che avete verso l'autorità verso i vostri genitori verso le vostre paure e aspettative da quelle reazioni scoprirete pian piano ciò che sentite riguardo a Dio e non tanto cosa pensate di Dio la vostra immagine di Dio riflette l'intera scala tra i due poli opposti dal senso di futilità e di disperazione credendo che l'universo sia ingiusto fino all'autoindulgenza al rifiuto della responsabilità personale e alla speranza che Dio sia bonario e vivizi ora si pone la questione di come dissolvere tale immagine come si dissolve le immagini di una immagine qualsiasi prima di tutto dovete prendere piena coscienza dei concetti sbagliati che ne sono alla base la cosa non è così facile e rapidamente compiuta come potrebbe sembrare sebbene possiate per certi versi essere coscienti dell'immagine ed è escluso che ne possiate conoscere tutte le implicazioni tutti gli effetti e le influenze sulla vostra personalità potreste non aver riconosciuto il significato a tutti i livelli del vostro essere e questo deve essere sempre il primo passo probabilmente siete a conoscenza della presenza di un'immagine ma forse ancora non sapete che è falsa anche nella vostra percezione intellettuale potreste essere in parte convinti che l'immagine conclusione sia corretta finché la cosa rimane in questi termini non potete liberarvi delle catene che vi imprigionano alla falsa convinzione dunque il secondo passo è rimettere ordine nelle vostre idee la cosa più importante è comprendere che il concetto intellettuale non dovrebbe mai sovrapporsi al faso concetto di tipo emozionale che ancora persiste questo andrebbe a creare solo repressione d'altra parte non dovreste consentire alle immagini e alle conclusioni sbagliate che salgono in superficie grazie al lavoro che avete fatto finora di indurvi a credere che siano vere a volte in modo sottile vi capita di fare così rendetevi conto che le idee e i concetti sbagliati che finora avete represso devono divenirvi coscienti siate consapevoli di essi ma rendetevi conto che sono falsi formulate il giusto concetto e poi comparate questi due concetti è necessaria una continua verifica di quanto ancora deviate emotivamente ripeto è necessaria una continua verifica di quanto ancora deviate emotivamente dal giusto concetto intellettuale fatelo senza fretta e senza spazientirvi o prendervela con voi stessi perché le emozioni non seguono il vostro pensiero tanto rapidamente come vorreste ricordatevi che le vostre emozioni hanno bisogno di tempo per adattarsi mentre voi fate tutto per dar loro l'opportunità di crescere il miglior modo per far loro è questa continua osservazione e paragone tra i concetti errati e quelli giusti osservate anche la vostra resistenza al cambiamento e alla crescita il sé inferiore della personalità umana è molto astuto siate saggi con esso come ho detto certi concetti sono facili da formulare perché sono ovvi richiedono solo un po' di riflessione alle emozioni persistenti non importa se il concetto corretto sia più o meno vivo in entrambi i casi proveranno in tutti i modi di evitare che il vostro atteggiamento interiore cambi ma per quello che riguarda la vostra comprensione intellettuale dovete differenziare tra i due tipi di concetti quelli che sono ovvi se ci pensate bene e quelli che invece richiedono uno sviluppo dall'interno richiedono cioè una chiarezza interiore che dovete raggiungere per capire il giusto concetto anche a livello intellettuale la preghiera aiuta a comprendere quando pregate osservate fino a che punto volete veramente ricevere una risposta potete devotamente pregare per riconoscere i vostri malintesi ma interiormente c'è un blocco che fa opposizione e ve ne potete accorgere se ci fate attenzione in questo modo almeno capite che siete voi a ostruire la luce e la libertà e non Dio allora potrete incominciare a mettere in discussione quella parte di voi che persiste a voler rimanere infantile e irragionevole per quanto riguarda il concetto di Dio esso è certamente una delle consapevolezze più difficili da raggiungere perché è la più preziosa qualunque sia la vostra immagine a questo proposito e da qui dovrete partire se siete convinti di essere tanto vittime dell'ingiustizia al punto da non riuscire nei fatti ad accorgervi che questa convinzione è sbagliata e il rimedio è di trovare come nella vostra stessa vita avete contribuito a determinare gli eventi che vi sembrano tanto ingiusti quanto meglio comprenderete la forza magnetica delle immagini e la potente energia di tutte le correnti psicologiche inconsce tanto meglio capirete e farete esperienza della verità di questi insegnamenti e vi convincerete che non esiste nessuna ingiustizia trovate le relazioni di causa e effetto delle vostre azioni sia all'interno sia all'esterno di voi agli esseri umani piace dare eccessiva importanza all'apparente ingiustizia che li ha colpiti si concentrano su quanto grandi siano gli errori degli altri ovviamente è giusto evidenziarli e lo si deve anche fare ma cercare di trovare anche la vostra parte di responsabilità se mettete metà dell'impegno che di solito riservate per scovare i difetti degli altri nello scovare i vostri noterete come agisce su di voi la legge di causa e effetto già, questo vi renderà liberi perché vi mostrerà che non c'è alcuna ingiustizia di sorte vedrete che non è Dio né il fato e neppure un ingiusto ordine mondiale in cui vi tocca patire le conseguenze dei difetti altrui ma che sono la vostra ignoranza la vostra paura il vostro orgoglio il vostro egoismo a causare direttamente o indirettamente ciò che finora ritenevate capitasse senza che voi foste ad attrarlo trovate questo inconcepibile collegamento e troverete la verità vi rendete conto che non siete vittime delle circostanze e delle imperfezioni altrui ma i veri padroni del vostro destino comprenderete profondamente non solo in teoria ma anche in pratica che qualunque cosa vi accada è il risultato diretto o indiretto dei vostri atteggiamenti delle vostre azioni, pensieri ed emozioni e sono in special modo quest'ultime a causare l'effetto più grande cosa che viene regolarmente trascurata anche dei miei amici che già conoscono questa verità e l'hanno a volte anche toccata con me il vostro inconscio influenza l'inconscio degli altri questa verità è forse la cosa più importante perché vi serve per giungere e scoprire come fate a richiamare tutti gli eventi della vostra vita buoni o cattivi favorevoli o sfavorevoli quando ne avrete fatto esperienza potrete dissolvere la vostra immagine di Dio sia che la temiate perché credete nell'ingiustizia di essere vittime delle circostanze sulle quali non avete alcun controllo sia che rifiutate le vostre responsabilità aspettandovi che un Dio indulgente e permissivo metta a posto la vostra vita decida che per voi e vi liberi dalle sofferenze che vi siete inflitti sapete sapere come provocare certi effetti sulla vostra vita dissolverà anche l'immagine di Dio questo rappresenta un importantissimo punto di svolta uno dei vostri maggiori impedimenti è il senso di colpa o piuttosto è il vostro errato atteggiamento verso la colpa per capire questo sarebbe consigliabile rileggere la mia lezione sull'argomento dei sensi di colpa giustificati e ingiustificati lezione 49 ostacoli sul sentiero è il corretto atteggiamento verso i vostri difetti se le vostre colpe vi deprimono tanto profondamente da temere di affrontarle allora come prima cosa dovete lavorare con questo atteggiamento sbagliato perché è quello che vi impedisce di uscire fuori dal vostro circolo vizioso più vi sentite in colpa per dei possibili torti che dovete affrontare più sfruggite la realtà tanneggiando la vostra stessa anima un atteggiamento giusto e costruttivo verso le vostre mancanze è la chiave per dissolvere questo e tutti gli altri circoli viziosi in cui potreste trovarvi impigliati rendetevi conto che nessuno dei vostri errori è commesso di proposito o perché desiderate il male delle altre persone qualunque errore qualunque genere di egoismo non è altro in essenza che un fraintendimento è una conclusione sbagliata spesso la paura vi paralizza al punto che le vostre facoltà non riescono a funzionare correttamente di conseguenza gli errori che fate nel giudicare nel reagire nel reagire richiamano sulla vostra vita eventi che non riuscite più a ricollegare con l'origine della vostra paura finché evitate di confrontarvi con le vostre reazioni sbagliate a causa di un errato atteggiamento nei confronti dei vostri difetti non riuscite mai a trovare quel punto di svolta che è l'unico modo per riuscire a capire che non siete vittime che potere sulla vostra vita che siete liberi e che la legge di Dio sono infinitamente buone sagge amorevoli e sicure le leggi spirituali non fanno di voi una marionetta ma vi rendono totalmente liberi e indipendenti al fine di aiutarvi a formare il giusto concetto di Dio cercherò di parlarvi di Lui ma ricordate che tutte le parole possono benché vada essere solo un piccolo punto di partenza per coltivare la vostra conoscenza interiore le parole sono sempre inadeguate tanto più quando vengono usate per esprimere concetti su Dio che è inesplicabile colui che è tutte le cose colui che non può essere limitato dalle parole come possono le vostre capacità di percettive e di comprensione bastare a sentire l'immensità del creatore le più piccole deviazioni e blocchi interiori sono di ostacolo alla comprensione ecco perché è vostro compito eliminare quegli ostacoli passo dopo passo pietra dopo pietra perché solo a quel punto potete intravedere la luce e provare una sensazione di gioia infinita uno dei tali ostacoli che voi nonostante insegnamenti ricevuti da varie fonti inconsciamente pensate ancora a Dio come una persona che agisce sceglie decide e opera arbitrariamente e a sua volontà a questo sovrapponete anche l'idea che tutto ciò vada bene è così ma anche se includete la parola giustizia quell'idea rimane falsa perché Dio è le sue leggi sono state emanate una volta per tutte e operano automaticamente emotivamente siete in qualche modo legati a un concetto sbagliato e questo vi ostacola finché questa idea è presente il vero e reale concetto di Dio non può riempire il vostro essere fra le innumerevoli altre cose Dio è anche vita e forza vitale immaginatevi questa forza vitale come una corrente elettrica dotata di suprema intelligenza questa corrente elettrica si trova dappertutto intorno a voi è fuori di voi come usarla dipende da voi potete usare l'elettricità per scopi benefici persino terapeutici o anche per uccidere in tal modo in cui usate il modo in cui la usate non rende la corrente buona o cattiva siete voi a renderla buona o cattiva quella corrente è uno degli aspetti importanti di Dio e ciò che vi tocca più da vicino questo potrebbe portarvi a supporre che Dio sia completamente impersonale e quindi ancora più temibile il che sembra contraddire l'idea del suo amore infinito nessuna delle due cose è vera Dio essendo il tutto è anche personale se sceglie di esserlo anche se il suo aspetto è personale non ha nessuna attinenza con l'argomento di cui stiamo parlando e neppure con uno degli aspetti più importanti della vostra vita personale il suo amore non solo è personale nell'ambito del Dio manifesto ma è anche personale nelle sue leggi nella natura stessa delle leggi l'amore apparentemente impersonale delle leggi che sono cercate di capire fino in fondo che cosa è implicito nelle parole che sono si mostra chiaramente nel fatto che esse sono realizzate in maniera tale da condurvi inevitabilmente alla luce e alla beatitudine indipendentemente da quanto possiate deviare da esse più deviate da esse più le avvicinate tramite la sofferenza e la violazione che vi procura proprio quella sofferenza vi farà cambiare direzione prima o poi alcuni lo faranno prima altri più tardi ma alla fine tutti dovranno rendersi conto che sono loro stessi a creare la propria sofferenza o la propria felicità e questo amore insito nella legge così come il fatto che ogni deviazione contiene anche la medicina adatta per culare il dolore causato dalla deviazione e pertanto vi conduce più vicini alla meta l'amore della legge è perciò di Dio è anche contenuto nel fatto che Dio vi lascia violare la legge se volete il fatto che siete creati a sua immagine significa che siete completamente liberi di fare le vostre scelte vi Dio ripeto voi non siete costretti a vivere nella beatitudine e nella luce ma potete farlo se lo desiderate tutto questo è l'amore di Dio ciò non è facile da comprendere ma anche chi tra voi ha difficoltà a capire arriverà un giorno a rendersi conto della verità di queste parole tutte le volte che avete difficoltà a comprendere la giustizia dell'universo e l'autoresponsabilità della vostra stessa vita non pensate a Dio come a lui sebbene naturalmente Dio possa manifestarsi anche come persona dal momento che può fare qualsiasi cosa ed è ogni cosa pensate piuttosto a Dio come una grande forza creatrice a vostra disposizione quindi non è Dio ad essere ingiusto come il vostro inconscio può credere ma lo è l'uso sbagliato che fate della corrente di potere a vostra disposizione se incominciate da questa premessa e ci meditate sopra e se d'ora in poi cercate di trovare dove e come per ignoranza avete abusato della corrente di potere che è in voi Dio vi risponderà questo ve lo posso assicurare se ricercate sinceramente la risposta e se avete il coraggio di affrontare senza farvi prendere dai falsi sensi di colpa tutti ormai dovreste essere in grado di evitarlo arriverete a capire come agisce la legge di causa ed effetto nella nostra vita arriverete a capire che cosa vi ha portato a ritenere forse inconsciamente ma proprio per questo con più forza che il mondo di Dio sia crudele ingiusto il mondo in cui non avete alcun potere nel quale siete destinati a vivere nella paura e senza speranza un universo dove la grazia di Dio va solo ad alcuni prescelti ma non a voi solo comprendendo la legge di causa effetto potrete liberarvi da questo concetto sbagliato di Dio che distorce la vostra anima e la vostra vita lo so voi non pensate tutte queste cose ma molti di voi le pensano nelle profondità nascoste del loro inconscio cercate di trovare quella parte di voi dove siete convinti che le cose stanno effettivamente così indipendentemente dall'amore pur sincero che al contempo provate per Dio scoprite se lo temete più di quanto lo amiate se farete questa ricerca potrete stare sicuri che quelle immagini di Dio esiste in voi e che state vivendo una distorsione un'illusione perché tutte queste immagini non sono altro che questo enumerate tutte le ingiustizie della vostra vita ma non esaminate le vite degli altri o le condizioni generali perché la risposta non può trovarsi lì dopodiché cercate di trovare dove avete abusato della corrente di potere e mettete in relazione quei casi alle ingiustizie di cui vi lamentate se non riuscite a farlo immediatamente vi aiutero io ad un ulteriore lavoro vi mostrerà molto chiaramente quali sono i collegamenti purché desideriate veramente le risposte non avete idea di quel che questa scoperta può significare per voi quanto più all'inizio le resisterete tanto maggiormente sarà la vittoria non avete la minima idea di quanta libertà fiducia e sicurezza vi darà comprenderete pienamente la meraviglia della creazione di queste leggi che vi consentono di creare tramite le correnti di potere la vostra vita così come vi piace questo vi darà la fiducia della profondità assoluta certezza che non avete nulla da temere a questo riguardo esiste un tipo di personalità tanto negativa anche se forse solo nel subconscio da essere profondamente convinta della futilità della sua vita e che la forza vitale a disposizione possa funzionare solo in senso negativo questo può essere un paradosso amici ripeto questo può sembrarvi un paradosso amici ma non lo è la forza vitale è energia e nei problemi della personalità di questo tipo l'energia è usata solo negativamente questo significa per esempio che la persona si ravviva in situazioni negative in situazioni di scontro di requetezza di litigio e di qualsiasi altro tipo di disarmonia in queste situazioni la cosa la qualcosa vibra e pulsa interiormente eppure quando tutto va liscio anche se un lato della personalità ne è contento di solito il lato cosciente un altro lato si sente spento e svuotato questo indica che la distorsione riguardo a Dio è molto avanzata sia pure in tono minore la maggior parte delle persone ha questa reazione almeno di tanto in tanto esaminate se vi sentite più vivi in una situazione negativa o in una situazione positiva le vostre reazioni saranno in relazione con la vostra immagine di Dio ci sono domande a riguardo domanda potresti farci qualche esempio di abuso della forza vitale risposta l'abuso della corrente di potere della forza vitale consiste in tutte le azioni pensieri atteggiamenti emozioni che deviano la verità e divina e che sono incentrate solo su di voi e motivate da uno spirito di separatezza la separatezza dell'anima in breve si ha quando le persone si ritirano interiormente e innalzano un muro invisibile intorno alla loro anima nell'errata convinzione che questo possa proteggerle per esempio la paura della vita e dell'amore e della realtà e dell'autoresponsabilità portano tutte ad uno stato di separazione cioè in realtà significa che l'individuo si considera diverso dagli altri il legame di fratellanza viene spezzato questo può accadere in tutti quei tipi di reazioni che non sempre sono ovvi ogni difetto umano contribuisce alla separazione ed è di per sé una conclusione errada una falsità un'illusione lontana quindi dalla verità se analizzate ogni difetto scoprirete che esistono solo perché credete che possa proteggervi e portarvi dei vantaggi in verità non è così perché nulla che sia vantaggioso per un altro può essere di vantaggio a voi questa è la separatezza e la separatezza è l'illusione del mondo della manifestazione ho risposto alla tua domanda? sì grazie domanda durante il nostro lavoro abbiamo incontrato la parola distacco dico bene se affermo che il distacco è semplicemente un altro modo per esprimere la separatezza risposta non necessariamente quando si tratta di parole il loro significato può essere sottile e confuso come voi tutti ormai sapete grazie al nostro al vostro lavoro una parola può avere un significato per una persona ed uno diverso per un'altra una parola identifica un'idea e tutti voi sapete bene che ogni idea corretta può essere distorta in una falsa portandola ad un estremo che non può che essere sbagliato questa distorsione di solito ed è tutto deliberata sebbene inconscia infatti si cerca di trovare delle giustificazioni per i problemi dell'anima portando un'idea corretta al suo estremo questo è sempre stato il problema di tutti i grandi insegnamenti religiosi nel corso delle epoche il distacco subisce un destino simile persone che hanno paura di vivere e di amare si rifugiano spesso nell'idea distorta di distacco ma questo non dovrebbe farvi dimenticare il suo reale significato il suo giusto senso il significato di distacco è quello di essere distaccati del proprio egocentrismo facendo questo si ottiene una certa obiettività che è distacco significa che voi considerate la vostra vanità ferita i vostri vantaggi e i vostri scopi non diversamente da quelli delle altre persone quando questo sia difficile di attuare anche di poco già lo sapete non potete raggiungere quello stato fuggendo dalla vita e dai suoi mani fraintendendo le idee spirituali come certa gente vuol credere di poter fare piuttosto il contrario solo affrontando i mali della vita con il giusto spirito senza essere così preoccupati di se stessi da non riuscire a vedere nient'altro raggiungerete il sano distacco e la sana obiettività dal momento che siete umani è comprensibile che temiate la vita e l'amore ma non potete scacciare la paura usando il tipo di distacco sbagliato potete raggiungere il vero distacco solo per gradi domanda credo che questa domanda sia stata fatta in relazione ad una discussione che abbiamo avuto puoi dirmi se la penso in modo corretto sembra che ci coinvolgiamo in modo negativo in ogni sorta di emozioni per cui io non voglio più coinvolgermi così prima di aver imparato il distacco una volta imparato sono pronto a coinvolgermi perché a quel punto posso esserlo in modo costruttivo risposta sfortunatamente non sempre funziona così sarebbe estremamente comodo e piacevole evitare la delusione della vita in questo modo e molte persone ci provano senza riuscirci come ho detto spesso nel passato non potete aggirare le delusioni dovete attraversarle finché avete paura della sofferenza non ve ne potete staccare perché la paura è peggiore di ciò di cui avete paura questo rimane sempre vero perciò si deve cercare di trovare la giusta via di mezzo tra quegli estremi sbagliati ad un estremo troviamo la persona che si tuffa capofitto in quelle situazioni in qualunque situazione negativa vari fattori psicologici ne sono responsabili autopunizione una forma di aggressività verso gli altri il desiderio di punirli attraverso la propria infelicità e molti altri fattori quelli sono le persone che si trovano sempre coinvolte in modo negativo e distruttivo altrettanto all'altro estremo c'è la separatezza l'atteggiamento che vi fa ritenere di poter attraversare la vita evitando degli aspetti negativi se avete così tanta paura della sofferenza al punto di adottare misure rigorose eppur di evitarla non riuscite mai ad esserne al di sopra e quindi non potete mai raggiungere il giusto tipo di distacco allo scopo di essere al di sopra di qualunque cosa dovete attraversarla in modo da non avere più paura è una cosa che va fatta col giusto spirito e non con l'atteggiamento masochistico e autodistruttivo né con un atteggiamento di paura o una sorta di patologico amore di sé quindi la giusta via di mezzo deve essere trovata anche sotto questo aspetto come in tutti gli altri e qui sta sempre la difficoltà la giusta via di mezzo consiste in breve nel fatto che la vita vi porta ogni genere di esperienze che può portarvi solo alle esperienze che la vostra stessa anima richiama e che voi non evitiate la felicità perché temete l'infelicità e che non evitate il coinvolgimento positivo perché non avete paura del coinvolgimento negativo tutte le esperienze negative dovrebbero rendervi più forti ma se vi innebuliscono significa che non è l'esperienza negativa in sé a causare l'indebulimento quanto piuttosto il vostro atteggiamento verso quell'esperienza in questo non va esclusa una certa cautela ciò non significa buttarsela leggera nelle cose senza ragionare senza usare la propria intuizione senza cercare di vedere oggettivamente la situazione le persone coinvolte e tutto quello che fa parte del problema a volte si evita di vedere perché si vorrebbe che gli altri adottassero i propri bisogni o che fosse la situazione a farlo e per questo motivo non osate osservare la giusta via di mezzo richiede una certa obiettività ma non dimenticate potrete diventare obiettivi nei confronti del mondo e delle situazioni che vi circondano nella misura in cui saprete essere realmente obiettivi verso voi stessi l'interlocutore io non ho paura di star male ma mi piacerebbe imparare a tenermi un po' più in disparte risposta questo va bene vedi la mia risposta non riguarda solo te personalmente ma è di interesse generale è così facile fraintendere ed alimentare il lato malato di una personalità per quello che ti concerne personalmente devi trovare quella giusta via di mezzo mettendoti costantemente in discussione al di là di quale sia stato l'estremo che ti ha riguardato finora potrebbe essere saggio e propendere temporaneamente un po' più nell'altra direzione non perdere di vista il fatto che anche quella è un estremo ma sarà così per un certo periodo finché non raggiungerai il giusto equilibrio in quella discussione avrete entrambi ragione ma ciascuno di voi deve trovare il giusto equilibrio interiore rendendosi conto verso quale di questi estremi siete portati a propendere domanda quali sono le relazioni le analogie le differenze tra l'antiforza vitale e l'abuso di forza vitale risposta l'abuso di forza vitale è l'antiforza vitale l'abuso risveglia l'antiforza vitale si tratta di una sola distorsione queste non sono due forze separate ma un'unica corrente domanda per quanto riguarda la menzogna qual è il punto di vista spirituale circa le bugie compassionevoli mentire per proteggere una causa più alta o per evitare di offendere risposta la mia risposta non può e non deve essere data a un livello esteriore molti maestri e insegnamenti rimangono ad un livello esteriore un livello di condotta a quello livello la risposta non potrebbe mai essere definitiva in realtà potrebbe addirittura anche essere pericolosa sul piano esterno si emanano regole che poi diventano rigide e perdono di significato è un errore cercare una regola fissa ci sono tantissime possibilità e ognuna è diversa così lì per lì la mia risposta potrebbe all'inizio sembrare poco chiara magari e probabilmente un po' ambigua e non renderà soddisfatti come quella che darei basandomi su di un'unica regola di condotta valida per tutti i casi la sola risposta valida si trova a livello interiore ed è questa quando avrete imparato ad essere sinceri con voi stessi al massimo delle vostre persone possibilità saprete sempre cosa fare e quale sia il corretto comportamento da tenere sia che si tratti di questo argomento o di altri argomenti giungerete ad una tale sincerità ed è di per sé un lungo processo solo in voi stessi troverete la verità in grado di disciplinare la vostra condotta esterna se siete onesti con voi stessi sarete in grado di valutare se il vostro dilemma si bava unicamente su motivi altruistici prevenire le offese tenere conto di una causa più alta o cose del genere e se questi validi motivi ne nascondono anche uno egoistico saprete come valutarlo la mera scoperta e consapevolezza della presenza di un possibile motivo egoistico nascosto vi mostreranno come procedere su questo punto non si possono fare generalizzazioni la scoperta del motivo egoistico vi farà capire che il vostro atteggiamento altruistico ha perso di valore in altri casi è buono prendere in considerazione la vostra intenzione altruistica al grado siate venuti a conoscenza di motivi egoistici vedrete che anche se traete un vantaggio personale dall'essere altruisti sarà anche un vantaggio per tutti quanti solo voi potete smettere di ingannare voi stessi se non conoscete la vostra verità persino una buona azione vi sarebbe dannosa non mi stancherò mai di dire che il modo giusto di comportarsi che tutti ricerchiamo non si trova nell'azione in sé bensì nell'autoconsapevolezza e nella sincerità quella è la chiave di tutti i conflitti anche se si tratta di una menzogna o di qualsiasi altra cosa interlocutore in sostanza questo significa che cambiare da tu non devi a tu non puoi risposta lo includerebbe tutti i comportamenti corretti derivano da una libera scelta non è esattamente quello che ho detto ho parlato dell'importanza di notare come possono coesistere dei motivi nascosti probabilmente egoistici con il motivo esterno e cosciente di natura altruista domanda faccio questa domanda in nome di una persona assente come si collocano le sue interazioni sul piano umano di azione e reazione con la volontà di Dio la volontà del sé superiore e il libero arbitrio e la volontà egoica risposta la volontà del sé superiore è la volontà di Dio non c'è differenza appunto perché è libero il libero arbitrio può corrispondere alla volontà di Dio oppure alla volontà egoica anche la volontà egoica può coincidere con quella di Dio solo il motivo è diverso in altre parole lo scopo può essere quello giusto ma la volontà di Dio è rilassata paziente indifferente all'ego della persona la volontà di Dio è flessibile mentre la volontà egoica potrebbe anche mirare agli stessi risultati ma è rigida impaziente egocentrica l'interazione cioè azione e reazione tra persone è un problema molto più complesso io sospetto che ciò che è alla base della domanda forse non del tutto cosciente sia di sapere se un individuo è dipendente dalle scelte farte degli altri in altre parole se il mio prossimo sceglie con il suo libero arbitrio di compiere un'azione sbagliata e io ne vengo nanneggiato come me la sono procurato in che modo me la sono meritato sono o non sono una vittima delle scelte arbitrarie della volontà egoica del mio prossimo dettate dal suo libero arbitrio e dal suo egoismo la paura profondamente radicata di dipendere dalle azioni e dalle intenzioni degli altri è un grande problema dell'umanità che condiziona l'atteggiamento dell'individuo verso la vita mi rendo conto che è difficilissimo per voi afferrare e comprendere bene che non dipendete mai assolutamente mai da un'altra persona anche se a prima vista vi pare così questa è la grande illusione del mondo della manifestazione gli insegnamenti e il sentiero che vi porto devono dimostrarvi una volta per tutte che siete voi a infliggere le difficoltà i conflitti e le sofferenze non importa quanto grande sia la colpa degli altri quando sarete liberi da immagini illusioni e conclusioni e concetti errate le azioni sbagliate degli altri non possono mai toccarvi a quel punto imparerete ad adattarvi al mondo le situazioni felici o infelici della vostra vita gli eventi favorevoli o sfavorevoli avranno su di voi un uguale effetto naturalmente non siete ancora arrivati fino a questo punto ma per gradi vi ci state avvicinando alcuni dei miei amici hanno già fatto esperienza di questa grande verità sia pure per brevi istanti anche se poi si è di nuovo dissolta una volta fatta esperienza però questo è più facile riappiarsi di quella conoscenza e costruire su di esso se quel che è benedetto non è completamente chiaro potrete chiedermi di chiarirlo nella prossima sessione nel frattempo meditate sulle mie parole miei carissimi amici possano le parole di stasera portare luce alla vostra anima e nella vostra vita lasciate che riempiano il vostro cuore lasciate che siano uno strumento per liberarvi dalle vostre illusioni amici miei carissimi benedico singolarmente e collettivamente tutti il mondo divino è un mondo meraviglioso e ci sono ragioni per gioire su qualunque piano stiate vivendo quali che siano le illusioni e i disagi che dovete momentaneamente sopportare fate che siano per voi come una medicina crescere forti e felici qualunque cosa incontrate sul vostro cammino siate benedetti siate in pace siate in Dio avete ascoltato la lezione della guida del sentiero numero 52 immagine di Dio per ulteriori informazioni visitate il sito web www.bibliotecadelsentiero.org www.bibliotecadelsentiero.org